Un riconoscimento ai sindaci per l'impegno nell'emergenza Covid. Presso la sede della provincia di Montebrianza è stato consegnato il premio Beato Talamoni, medaglie e menzioni speciali ad associazioni e personaggi che si sono distinti per solidarietà ed impegno civico nei mesi più difficili della pandemia, nel perfetto spirito incarnato dal santo patrono monzese. A ricevere la medaglia dalle mani del presidente Luca Sant'Ambrogio, anche Cancro Primo Aiuto Onlus che dal 1995 opera in Brianza, sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. Il premio più importante della provincia per il lavoro svolto da Cancro Primo Aiuto in questo territorio. È un lavoro estremamente importante, fatto di raccolta di donazione da parte degli imprenditori, fatto di analisi delle esigenze, fatto da quella qualità di prestazioni legate alle persone che più soffrono. È il premio forse più importante del territorio e averlo come Cancro Primo Aiuto significa un riconoscimento anche per i nostri 25 anni per il lavoro fatto sul territorio. Noi siamo nati sul territorio di Montebrianza e questo testimonia il buon lavoro fatto in tutti questi anni. Grazie mille.